A Johann Gustav Droysen dobbiamo il conio del termine ellenismo. In particolare nell'importante saggio intitolato Geschichte des Ellenismus, storia dell'ellenismo, 1836-1843, Droysen conia il termine di ellenismo e sviluppa il concetto stesso dell'ellenismo. In particolare l'opera godrà di grande fortuna perché effettivamente diverrà un punto di riferimento cardine per gli studi sul tema stesso dell'ellenismo. E in effetti Droysen stesso deve la sua celebrità universale alle sue ricerche, alle sue investigazioni storiche sulla storia e sulla politica dell'età di Alessandro Magno e dei suoi successori. Ciò che rese di fatto Droysen un vero e proprio antesignano di un nuovo corso della storiografia tedesca, segnato sotto l'influenza hegeliana dall'idealizzazione del potere e del successo. Alessandro Magno come individuo cosmico storico, per dirla con le lezioni della filosofia della storia hegeliana. Droysen fu il primo ad attribuire all'ellenismo la funzione storica di mediazione tra il mondo antico e quello occidentale cristiano. Ecco perché l'ellenismo è così importante nell'analisi droyseniana. Gli studi di Droysen sollevano il velo su un'epoca storica e culturale che fino a quel momento era stata trascurata dalla ricerca e su cui gli storici avevano spesso soffermato la loro attenzione attraverso le lenti deformanti dei pregiudizi di matrice neoclassicistica. Insomma, avevano studiato l'ellenismo come semplice punto di passaggio tra epoche diverse. Sotto questo riguardo invece Droysen lo studia in sé per sé, analizzandolo, juxta propria principia e come periodo in sé autonomo. Tra l'altro Droysen fu politicamente sostenitore dello stato forte e dell'unificazione della Germania sotto la Prussia e i suoi studi a partire dall'ellenismo si rivelano poi attenti anche ad altre questioni, magari anche convergenti come quelle dell'ellenismo. Ad esempio pubblica una Geschichte Alexander des Großen, 1833, storia di Alessandro il Grande, la storia dell'ellenismo già citata in due volumi, 1836-1843, e poi tante altre opere come la storia della politica prussiana in 14 volumi e anche un lineamento fondamentale di storia, Grundris der Historik, 1868. L'analisi di Droysen muove dal problema di quello che possiamo definire il tema dell'ermeneutica storica. È un allievo di Hegel e di Boeck, fonda la scuola prussiana e contribuisce all'unificazione tedesca sotto la Prussia, come già ricordato. La sua opera principale, anche se incompiuta la storia della politica prussiana, che giunge fino al 1756, di fatto giustifica la politica di potenza, giustifica in prospettiva la politica di potenza che sarà bismarchiana. Fin dalla giovinezza, Droysen coltiva una passione vocazionale per il mondo greco e soprattutto per l'ellenismo. Il concetto di ellenismo, di fatto, è inventato da Droysen, come dicevamo, e anche l'analisi attentissima che fa, dedicandola alla vicenda di Alessandro Magno e alla storia di quel periodo, tra la morte di Alessandro Magno e poi fino alla battaglia di Azio, è una storia originale che davvero occupa un posto a sé. In particolare, nell'ambito dell'ermeneutica storica, Droysen pubblica un testo dedicato con il titolo di Istorica, o meglio, lineamento fondamentale della Istorica, dove mette a tema le sue innovazioni metodologiche. L'opera si apre con una tematizzazione dell'analisi generale della storia, del metodo, del compito dello storico, e la prima parte è dedicata a problemi metodologici. La seconda parte della Istorica, invece, si sviluppa tramite considerazioni tecniche sull'uomo e sul suo nesso, con quelle che Droysen chiama le potenze etiche, chiaro riferimento alla sitlichkeit, all'eticità hegeliana, e Dilta in seguito le chiamerà i sistemi di cultura nella sua introduzione alle scienze dello spirito. Nella prima parte dell'opera, della Istorica, ci imbattiamo nella celeberrima differenziazione tra quattro forme dell'interpretazione, pragmatica, delle condizioni, psicologica, delle idee. E poi distingue anche tra le scienze della natura, Naturwissenschaften, e le scienze dello spirito, Geisteswissenschaften. Questa distinzione è davvero determinante per il dibattito successivo ed esercita un influsso notevole sul dibattito che verrà dopo. Memore della lezione hegeliana, Droysen distingue tra la ricerca storica e la speculazione sulla storia, e tramite questa distinzione mette a tema il compito dello storico. Lo storico non deve speculare, non deve fare teoretica alla maniera filosofica, deve comprendere indagando. Fortschend zu verstehen, comprendere per, o meglio, indagare per comprendere, comprendere indagato. Detto altrimenti, l'attività dello storico deve restare saldamente legata alle esperienze passate e alla loro ricostruzione. Non deve mai degenerare in astratte riflessioni sulla storia alla maniera filosofico-teoretica. E in virtù della differenziazione tra scienze dello spirito e scienze della natura, Droysen ragiona anche sullo statuto proprio delle prime, le scienze dello spirito, e lo fa nel tentativo di evidenziare l'autonomia delle scienze dello spirito e di frenare il dilagante, incontenibile sviluppo delle scienze della natura sotto il segno del positivismo. Le scienze storiche, dice Droysen, non possono far ricorso alla spiegazione, all'Herclaren proprio delle scienze della natura, da che di fatto l'Herclaren spiega le cose riconducendo il successivo all'antecedente. B è stato causato da A. Ma nella storia non ci interessa tanto questo nesso causale quanto la possibilità di cogliere il presente nella sua immediatezza, nei suoi caratteri individuali. La storia non deve, Herclaren, spiegare, deve verstehen, comprendere. E questa distinzione, su cui si riduce in ultima istanza tra quelle, la distinzione tra scienze dello spirito che comprendono e scienze della natura che spiegano, avrà grande fortuna anch'essa, tant'è che si troverà ancora in Max Weber. È in questa contrapposizione che si consuma l'oiato tra i due ambiti disciplinari. Come si diceva in precedenza, Droysen non solo distingue tra scienze dello spirito e scienze della natura, ma distingue anche quattro forme di interpretazione, quattro distinte forme dell'interpretare. La prima è l'interpretazione pragmatica. L'interpretazione pragmatica ricostruisce il fatto storico nella sua integrità, prendendo le mosse da indizi, tracce, resti e frammenti. Droysen paragona questo modus operandi a quello del restauro di una statua mediante i frammenti. In questo tipo di interpretazione svolgono una parte fondamentale, le ipotesi, che permettono di proteggere e controllare il modo in cui bisogna ricomporre i frammenti rinvenuti. Il secondo tipo di interpretazione è l'interpretazione delle condizioni, quella cioè che aspira a conoscere le condizioni, specificamente di tempo e di luogo, sotto le quali gli eventi sono accaduti. Lavora dunque sul materiale storico già disponibile. La terza interpretazione è l'interpretazione psicologica, mediante la quale lo storico cerca di risalire al volere, alla personalità, al carattere dei personaggi storici, di volta in volta indagati. E sotto questo riguardo parla Droysen soprattutto delle comunità etiche che contribuiscono a determinare l'agire umano e il corso degli eventi. L'ultimo tipo di interpretazione è l'interpretazione delle idee. Essa mira a cogliere il contenuto ideale delle opere in cui agisce e si realizza l'attività umana. Ed è la forma suprema di interpretazione. Queste idee, a giudizio di Droysen, sono sempre presenti nei fatti storici e garantiscono il loro significato. È proprio la presenza di queste idee nei fatti storici a rendere possibile la concezione della storia come progresso, da che tramite quelle idee si attua un concreto sviluppo delle comunità etiche. Questo ci permette di dire che anche Droysen, mutatis mutandis, resta a suo modo vincolato alle due idee di progresso e di storia in sé. Due idee interconnesse nella formula progresso della storia. Secondo una nota espressione di Droysen, al di sopra delle storie c'è la storia. Che è come dire, esiste un soggetto unitario che è la storia, al cui interno si diramano poi le singole storie particolari. E questa storia, quella che Reinhard Koselle definirà il singolare collettivo della storia, proprio del mondo moderno, avanza per Droysen come per Condorcet indefinitamente verso il meglio. Sicché Droysen ammette il progresso della storia come figura concettuale in sé e per sé esistente.